Musica Si dimette il primario di Locri e scoppia la polemica, il governatore occhiuto contrattacca, ordine dei medici e opposizione, ora non dicono nulla, questa storia non rappresenta un'eccezione e la migliore risposta a chi ha criticato la mia iniziativa con i medici di Cuba, il sindaco calabrese, ho invitato il professionista a rivedere la sua decisione. Una biblioteca nella villa confiscata all'Andrangheta, all'Ocril immobile nella via intitolata Francesco Panzera, il docente ucciso nel 1982 per essersi opposto allo spaccio di droga a scuola. Mercoledì, prima campanella in Calabria, cattedre vuote, segreterie a corto di organico e percentuale relativa alla dispersione scolastica in aumento, si rientra in classe senza mascherine e distanziamento ma con i soliti problemi irrisolti. Porto di Gioia Tauro, il corridoio digitale veloce consentirà di trasferire merce di origine extra Unione Europea in entrata in Italia, dallo scalo tirrenico all'hub intermodale Emiliano. Appuntamento con l'informazione a cura della redazione dell'altro Corriere. Buonasera, ben ritrovati da Fabio Benincasa, all'apertura dedicata alla sanità con una polemica che è stata sollevata dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ed è legata soprattutto alla rinuncia da parte del primario di ortopedia ad occupare il ruolo, il posto vacante all'ospedale di Locri. Una decisione che mortifica, ha detto Calabrese, sul fatto però intervenuto il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che non ha perso l'occasione per mandare un messaggio a coloro che si erano posti alla decisione assunta di coinvolgere e assumere in Calabria circa 500 medici cubani. Ebbene, dice Occhiuto, adesso nessuno parla. Aveva vinto il concorso e firmato il nuovo contratto solo pochi giorni fa. Le dimissioni del primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri, Fulvio Furci, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, inattese ma soprattutto al momento ancora immotivate. Furci non avrebbe infatti fornito giustificazioni in merito alla rinuncia, se non adducendo generici problemi personali sopraggiunti. Le dimissioni di Furci complicano, e non poco, la situazione già critica del nosocomio reggino. Vicenda questa denunciata dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che ha mandato su tutte le furie anche il governatore Roberto Occhiuto. Ci auguriamo che il dottor Furci, di cui si dice un gran bene, possa tornare sui suoi passi, ha affermato Occhiuto, ma è lampante come in Calabria sia estremamente difficile trovare medici disposti a lavorare in condizioni disagiate ed in strutture ospedaliere complicate. La storia del dottor Furci, prosegue Occhiuto, non rappresenta un'eccezione, ma in questi mesi l'ho vista e rivista decine di volte per le più variegate figure professionali in giro per i presidi ospedalieri della nostra regione. Io, da governatore e commissario della Sanità, aggiunto ancora Occhiuto, devo guardare avanti ricercando soluzioni ai problemi, lavorando a concorsi più attrattivi, tenendo con ogni mezzo aperti gli ospedali e garantendo il diritto alla salute ai calabresi. Ma l'ordine dei medici, che nelle scorse settimane non ha lesinato aspre critiche per la mia iniziativa, sui camici bianchi cubani, ha qualcosa da dire? E l'opposizione in Consiglio regionale, il silenzio assordante di queste ore, chiosa Occhiuto, sorprende e non poco. La politica con le ultime battute della campagna elettorale, con il PD che deve tentare una risalita, deve ridurre il gap che pare esserci, così dicono i sondaggi, con il centrodestra e allora il segretario Enrico Letta punta sul sud, sul mezzogiorno. E poi in Calabria questa settimana, almeno per il momento, arriveranno il leader di Coraggio Italia, Brugnaro, e Giuseppe Conte, invece, leader del Movimento 5 Stelle. Enrico Letta e il PD ci credono. Recuperare il gap dalla destra e da Meloni appare arduo, ma il segretario Dem ha in mente la strategia per arrivare primo al fotofinish, un nodo fondamentale riguarda il sud. Gli analisti del Nazareno hanno studiato la risalita del Movimento 5 Stelle che ruberebbe voti a Lega e Forza Italia. E così si spiegano la concentrazione dei tappe al sud da parte dei Democrat. Letta, a bordo del bus ecologico, sta rastrellando province e regioni del mezzogiorno, nei dibattiti e riferimenti alla lontananza delle idee della destra e il seccono al terzo polo e grillini. E a proposito di 5 Stelle, il leader Giuseppe Conte, venerdì 16 settembre sarà a Reggio Calabria, prevista una visita al museo e poi il ritorno in Sicilia, dove l'ex premier terrà diversi comizi dalla 15 al 17 settembre. in vista del voto del 25. Intanto prosegue il tour elettorale al sud di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia. Dopo le tappe di Catania e Taormina, si muoverà in direzione Calabria per una sosta a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. La pagina della cronaca è di otto feriti, tutti dimessi fortunatamente. Questo è il bilancio di un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Fiore nella notte per cause ancora in corso di accertamento. Una Fiat Punto con la guida. Un giovane ha finito la sua corsa contro il chiosco di un locale della centralissima. Via Roma l'auto ha urtato alcune fioriere prima di colpire l'appendice del bar. Otto dicevamo le persone ferite, fortunatamente nessuna in maniera grave. La nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana ha messo in salvo circa 350 persone da un motopesca in difficoltà a 50 miglia dalla costa siciliana. La nave è stato assegnato tuttavia al porto di Crotone per lo sbarco. Con la moto vedetta 325 invece sono arrivate 26 persone a Pozzallo. E adesso la scuola mercoledì. Prima campanella per il nuovo anno scolastico in Calabria. Senza mascherina, senza distanziamento. Si tornerà in aula ma con i soliti problemi irrisolti. Cattedre vuote, segreterie vacanti e soprattutto, e questo forse dovrebbe far riflettere, un aumento deciso, importante della dispersione scolastica. Negli ultimi due anni scolastici abbiamo perso oltre 230 mila alunni, soprattutto tra i più piccoli, infanzia e primaria. Ma a breve il calo interesserà anche le superiori, come già accade nelle medie. Quest'anno siederanno sui banchi delle scuole statali poco meno di 7,3 milioni di ragazzi. Nell'anno scolastico 2021-2022 i nostri alunni erano poco più di 7 milioni e mezzo. All'annoso fenomeno della dispersione scolastica si lega un altro tema, quello delle segreterie vuote. Oggi in media lavorano 4-5 persone, troppo poche per svolgere attività e adempimenti spesso complessi. Sperando che nel frattempo il Covid non rialzi la testa e non ci porti, a causa dell'inadeguatezza di molti edifici scolastici e a dover fare di nuovo i conti con il distanziamento, turni e scaglionamenti del recente passato, mercoledì suonerà la prima campanella in Calabria. Secondo i sindacati il resto è risolto un problema strutturale. Le cattedre vuote, inevitabilmente coperte in maniera discontinua dai precari e estimate per i prossimi mesi fra le 150 e le 200 mila. Così, se il ministro Bianchi garantisce l'avvio di un anno scolastico in cui non mancano i docenti, da FLCCGL parlano di mistificazione perché gli insegnanti saranno per lo più supplenti e non ci saranno nemmeno tutti alla partenza delle lezioni. Insomma, anno scolastico nuovo, vecchi problemi. Una biblioteca che sorge a Locri nella villa confiscata al BOS. L'immobile è intitolato a Francesco Panzera, docente ucciso nel 1982 per essersi opposto allo spaccio di droga nelle scuole. L'idea è quella di trasformare l'enorme villa di un esponente dell'andrangheta di Locri in un presidio culturale che potrà essere utile alla formazione dei giovani e della città. L'edificio che l'amministrazione comunale ha intenzione di far diventare una biblioteca apparteneva a Leonardo Salvatore Guastella, ritenuto interale alla Cosca Cordì ed in particolare vicinissimo al defunto BOS Antonio Cordì, considerato il capo dell'omonimo clan di Locri. L'Aggiunta ha aderito alla manifestazione di interesse dell'Agenzia dei beni confiscati su un bene confiscato alla criminalità organizzata di Locri e una villa da ristrutturare che è sita in via Francesco Panzera in prossimità del liceo scientifico. Nelle scorse settimane l'Agenzia ha assegnato in via definitiva questo bene a alcuni di Locri. L'idea è quella di utilizzare questo immobile a servizio del liceo scientifico realizzando una biblioteca o in ogni caso un presidio culturale a servizio dei giovani studenti. Ricordiamo che il liceo scientifico, tra l'altro, dove c'è anche questo immobile, è nella via intitolata proprio a Francesco Panzera. È un cittadino vicepresidente del liceo scientifico che è stato assassinato 40 anni fa dalla criminalità organizzata. Quindi è un presidio che ha oggi una valenza doppia proprio il posto dove è collocato. L'immobile confiscato, così come il liceo scientifico, è situato infatti nella via intitolata Francesco Panzera. Il docente di matematica e vicepreside del liceo scientifico Zaleuco ucciso il 10 dicembre del 1982 davanti al portone della propria abitazione raggiunto da otto proiettili. A volersi vendicare del professore, chiamava profondamente i propri studenti, ci sarebbe stato chi gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, ossia la criminalità organizzata. A Gioia Tauro sorgerà il primo corridoio veloce digitale del mezzogiorno. Sarà proprio lo scalo calabrese ad essere uno degli hub più importanti. Lo snodo cruciale per poi attivare l'interporto di Bologna. Sostanzialmente il corridoio consentirà di trasferire merce di origine extra europea in entrata in Italia. Il cammino a supporto della crescita del porto di Gioia Tauro taglia un altro strategico traguardo grazie alla realizzazione del cosiddetto fast corridor. Si tratta nello specifico di una nuova e importante infrastruttura digitale realizzata lungo la tratta ferroviaria di 1000 km tra lo scalo portuale di Gioia Tauro e l'interporto di Bologna e che rafforza ulteriormente la leadership del porto calabrese a livello italiano e nel Mediterraneo in quanto permette alla merce di arrivare a destinazione in modo rapido e controllato. Grazie al corridoio digitale veloce infatti si avrà la possibilità di trasferire la merce di origine extra un'europea in entrata in Italia attraverso il porto di Gioia Tauro direttamente nel hub intermodale di Bologna dove saranno effettuate le pratiche di sdoganamento. Saranno così evitati eventuali ritardi causati dai colli di bottiglia generati dalla congestione delle banchine portuali delle procedure doganali. Quello di Gioia Tauro però è un accordo particolarmente rilevante perché è il primo fast corridor che interessa un porto del mezzogiorno ed è il più lungo finora mai attivato. Ad oggi sul territorio nazionale sono attivi 22 fast corridor, 15 ferroviari e 7 su strada, coprono una rete di oltre 5000 km e movimentano circa 20.000 container all'anno ma sono tutti nelle regioni del nord. L'operazione è frutto anche di una strategica sinergia che ha visto coinvolta la società Medlog Italia, gestore del viaggio di proprietà del gruppo MSC. Dal gateway ferroviario realizzato dall'autorità di sistema portuale dei mari di reno meridionale Ionio guidata da Andrea Agostinelli parte la tratta ferroviaria che termina presso il nodo logistico di destinazione della società Terminale Italia del gruppo FS che a Gioia Tauro è anche coinvolta nello sviluppo del collegamento tra il nodo ferroviario interno al porto e la stazione nazionale di Rosarno. Andiamo a Cosenza perché è stata scoperta questa mattina nel centro storico una targa dedicata a Tony Gaudio, grande fotografo ma soprattutto Oscar dimenticato. Perché? Perché è stato il primo premio Oscar italiano ed è tutto calabrese di origini. Cosentine. Sono cresciuto a Los Angeles e sempre mi sono reso conto che Tony Gaudio è un grande gigante del cinema e fa parte della nostra storia e per questo mi sento più emozionato stare qui per questo mi sento più emozionato. La memoria di Tony Gaudio è quello che lui ha fatto perché lui era un pieno pioniere della cinema negli Stati Uniti che ha conseguito il primo nella storia degli Oscar il premio come artista italiano. Per cui ricordare quella che è la storia sua significa ricordare anche la storia della nostra città. Abbiamo scritto una pagina di storia così sul suo profilo Facebook Daniele Lavia, schiacciatore calabrese di Rossano, ha commentato la vittoria con la nazionale di volley maschile del campionato del mondo in Polonia. Ieri sera la vittoria 3-1 proprio contro la nazionale polacca. Intervistato alla fine del match dalla Gazzetta dello Sport, Lavia ha aggiunto non molliamo mai, un'esperienza incredibile, un'emozione unica vincere davanti a 10.000 persone che tifavano contro. È ovviamente un in bocca al lupo anche alla nazionale di basket che come sappiamo sta andando avanti nel suo campionato europeo. Ritorniamo però allo sport di casa nostra, weekend di campionato anche per quanto riguarda il calcio. Hanno giocato sabato Regina e Cosenza. Il Cosenza ha perso contro il Bari, la Regina invece ha vinto il suo match ma ci concentriamo sulla Serie C. Il Catanzaro ha vinto 3-0 con il Taranto in trasferta e noi ascoltiamo l'intervista realizzata. Mister Vivarini. In queste partite qui l'analisi maggiore che dobbiamo fare è sempre sulla crescita della squadra, su quello che facciamo in campo, dobbiamo standardizzare certi meccanismi, certe prestazioni. oggi molto bene, molto bene, diciamo prima mezz'ora, però poi abbiamo concesso troppo l'iniziativa al Taranto e tant'è vero che gli abbiamo concesso anche qualche occasione da gol. In queste partite siamo all'inizio del campionato, se abbiamo la testa per voler crescere, allora si può fare qualcosa di straordinario, altrimenti ci sono problemi. Noi quello che dobbiamo fare è un'impresa impossibile quest'anno, quindi è chiaro che voglio dire ci sta tanto da aspettare tutti, da aspettare le migliori prestazioni, dobbiamo aspettare i migliori avversari, quindi in questo momento qua pensiamo a far crescere le prestazioni di tutti, sperando che riusciamo a diventare una squadra ancora più forte di quello che siamo. Il Crotone invece vince in casa all'uscita 2-0 contro il Monopoli, le impressioni a fine gara. Anche Messina la partita l'abbiamo sempre avuta in controllo, a parte i gol, ma voglio dire abbiamo dilagato Messina. Qui anche oggi se andiamo a vedere tutte le occasioni create, potevamo fare veramente parecchi gol in più, la squadra ha fatto una buonissima gara, ci teneva molto di fronte al proprio pubblico, che ringraziamo perché è un pubblico molto caloroso e ci ha dato una grandissima mano e siamo tutti contenti perché ha giocato con grande cuore e con grande razziocinio, quindi come diceva lei ha saputo anche aspettare in alcuni momenti, ripartire con forza, difendersi bene, attaccare con molta qualità. Io penso siamo a buon punto e si vede, nella partita di oggi si è visto, certo c'è sempre da migliorare, il mister in questo è molto asfissiante, è giusto che sia così perché c'è sempre da fare qualcosa in più, c'è sempre da aggiustare qualcosa e noi siamo già con la testa la partita di Pescara e quindi già da domani avremo già la concentrazione su questa partita. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui, grazie per la cortesia e attenzione, buonasera a tutti voi, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.